A fuoco il capannone della centrale a biomasse. Le fiamme si sono sviluppate al nucleo industriale di Termoli. I tecnici dell'ARPA e della CET sono a lavoro per verificare se la nuvola nera abbia inquinato l'atmosfera. Di Pietro e frattura, intesa confermata, l'ex presidente dell'IDV ha concordato la linea per il prossimo anno tra le priorità, il rilancio dell'economia e la salvaguardia del lavoro. Trovato senza vita, giallo, ad acqua viva, un uomo muore in casa sua in una pozza di sangue. L'ipotesi principale è quella della caduta dopo un malore, ma gli inquirenti non escludono la pista violenta. Forze armate, memoria e unità a Campobasso isegna le celebrazioni del 4 novembre, il ricordo dei caduti, fondamentale appellarsi ai valori che non hanno tempo. Ancora aperte le iscrizioni alla Su e Giù, la stracittadina in programma domenica a Campobasso, la corso organizzata dalla Virtus e alla 41esima edizione. Buongiorno dalla redazione di Telemolise. Dunque la cronaca in apertura di questo telegiornale perché c'è stato un incendio nella centrale biomasse che si trova nel nucleo industriale di Termoli. Le fiamme hanno interessato le torri di raffreddamento esterne, sono ora in corso accertamenti per stabilire le cause del rogo. Sul posto è andato per noi Fabrizio Occhio Nero. La nube di fumo denso e nero è stata segnalata anche dai paesi del circondario. Si è sprigionata intorno alle 11 dagli impianti della centrale biomasse CNT della zona industriale di Termoli dove per cause da accertare un incendio ha interessato le torri di raffreddamento. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento che si trova a poche centinaia di metri. Le squadre del 115 sono riuscite a spegnere le fiamme in pochi minuti, poi sono continuati sopralluoghi per verificare i danni nella struttura insieme al personale addetto alle procedure d'emergenza. L'intervento è stato seguito con apprezzione anche dai dipendenti delle aziende vicine, alcuni dei quali sono scesi in strada preoccupati dal colore e dall'impressionante portata del fumo. Al momento dell'incendio la centrale elettrica Biomasse era ferma per consentire alcuni lavori di manutenzione. I dipendenti si trovavano in altri reparti dell'impianto e nessuno di loro è rimasto coinvolto. Sul posto anche i carabinieri di Termoli coordinati dal capitano Paolo Nichilo. Sono in corso i controlli e gli accertamenti per fare chiarezza sulle cause dell'incendio. Intanto a proposito di Biomasse, il governatore Paolo Frattura ha ribadito che entro domani saranno revocate le due autorizzazioni per le centrali del Matese. Ho assunto un impegno con i cittadini, ha detto Frattura ai giornalisti a margine dei festeggiamenti del 4 novembre e lo mantengo. Il presidente ha ribadito dunque che tutto si definirà nelle prossime 24 ore anche perché ha sottolineato dopo domani la questione a prodaltare. Non avrebbe senso arrivare con un atto successivo al pronunciamento dei giudici delegando ad un soggetto terzo eventuali determinazioni. E adesso la politica. Ieri sera a Campobasso l'atteso confronto tra l'ex leader dell'Italia dei valori di Antonio Di Pietro e il governatore Frattura. È stato fatto un bilancio dei primi 18 mesi di governo alla Regione. Si è parlato degli impegni per il futuro. Per noi c'era Giovanni Minicozzi. Le priorità per l'anno 2015 sono state al centro del confronto pubblico tra Paolo Frattura, Antonio Di Pietro e i segretari dei partiti di centro-sinistra che però hanno disertato l'appuntamento eccezione fatta per Michela Fanelli e Vincenzo Cotugno. Da parte sua Antonio Di Pietro, che ha organizzato l'evento, si è presentato senza le bandiere dell'Italia dei Valori, partito che ha fondato ma da quale ha preso definitivamente le distanze. Secondo i beni informati, infatti, nei prossimi mesi potrebbe sciogliere anche il gruppo dell'Italia dei Valori alla Regione e far confluire i suoi eletti in quello di Paolo Frattura. Nessuna competizione con i nove punti previsti dall'accordo Frattura-Ruta, ma Antone Di Pietro ha dettato comunque le sue priorità per rilanciare l'economia del Molise. I cittadini sono stufi di vedervi e vederci litigare soltanto dalla mattina alla sera, a destra, a sinistra, al centro, di sotto, di sopra. Non ne possono più. La specificità del Molise le sappiamo molto bene, ci sono troppi sprechi su cui bisogna incidere, ci sono troppi pochi soldi che vengono assegnati al Molise e troppe volte che questi soldi vengono non usati. L'appello che lancio al Presidente Frattura, alla Giunta, al Consiglio regionale è di mettere da parte le scimitarne e di lavorare un po' tutti insieme. L'asse Frattura-Ruta però ha rimesso in discussione l'autostrada. L'autostrada del Molise, come voi sapete, sono stato io da Ministro che ho insistito e ci ho anche impegnato dei fondi. Allora, lo dica la Di Pietresi, non chiamate l'autostrada, chiamate le superstrade, chiamatele come vi pare, ma a me sembra che sia importante collegare il Tirreno all'Adriatico. Se non lo facciamo, lo fanno un po' più su, verso Ancora, un po' più giù, verso Bari. E il Molise, ciu-ciu. Ma questa intesa ruta Frattura in qualche modo è margine, mette di lato l'Italia dei Valori? Guarda, in questo momento Antonio Di Pietro ha deciso di andare oltre l'Italia dei Valori e invita anche gli altri partiti ad andare oltre le sigle di appartenenza. Se noi troviamo una soluzione affinché le emergenze per il Molise vengono alla luce e vengono risolte, a me che si chiama Frattura, che si chiama Ruta, che si chiama Di Pietro, da cittadino, non me ne frega niente. Lavoro e infrastrutture sono i punti fondamentali di Antonio Di Pietro. Anche per il segretario del PD, Michela Fanelli, bisogna puntare sul rilancio occupazionale e sulla banda larga per dare impulso all'economia. A dire il vero, però, la banda larga già esiste, occorre solo completarla e non servono molte risorse per farlo. Per il governatore Paolo Frattura, infine, i punti esposti da Antonio Di Pietro non sono incompatibili con quelli sottoscritti con Roberto Ruta. Ma ritengo che non ci sia... stiamo cominciando adesso e ci confronteremo tra qualche minuto. Non è come si concilia. Con il senatore Ruta abbiamo ridefinito un programma elettorale confermando l'impegno sia a livello regionale che a livello parlamentare. Sono convinto che con l'onorevole Di Pietro, o meglio ancora con il presidente Di Pietro, non si possa che ulteriormente approfondire temi condivisi, ma condivisi nel momento in cui si è costruito il progetto del centro-sinistra che ci ha portato alla guida di questa regione. Resta andiamo in Consiglio Comunale a Campobasso, dove sono state approvate le linee programmatiche proposte dal sindaco Battista. Non sono mancate però polemiche da parte della minoranza. Il servizio di Marcella Tamburello. Rilanciare la città di Campobasso, soprattutto per la questione del lavoro, è l'impegno della nuova amministrazione che ha deciso di misurarsi con una serie di linee programmatiche da attivare nei prossimi cinque anni. Programma presentato in Consiglio Comunale, dove è stato approvato con 19 voti favorevoli, 5 contrari e 4 assenuti. Il sindaco Battista ha espresso soddisfazione per l'approvazione, ma non è mancata qualche polemica. Gli esponenti del Movimento 5 Stelle hanno sottolineato come nel programma ci siano tante belle parole, ma poca concretezza. Bisogna fermare innanzitutto la disoccupazione e ridurre i costi della pubblica amministrazione, ha commentato Paola Felice durante il proprio intervento. I cittadini devono essere al centro degli interessi della politica, è ancora il commento dei 5 Stelle. Quello che ci lascia perplessi è che questi 4-5 mesi ci hanno dimostrato che forse, almeno nei modi rispetto alla minoranza, si è visto con il bilancio, non ci è sembrato che ci fosse proprio tutta questa apertura. Si viene spesso proclamata questa apertura verso la minoranza, questa collaborazione, però noi ci aspettiamo un po' di più in questo senso perché sembra che noi invece abbiamo dimostrato di votare i provvedimenti per quello che valgono e non per partito preso. Anche Polo Civico ha sottolineato come le linee del centro-sinistra siano troppo sterili. Sicuramente ci saranno punti condivisibili all'interno del programma, ha commentato Michele Scasserra, ma un'amministrazione che vuole cambiare rotta dovrebbe puntare su altro. Credo che le linee programmatiche del sindaco siano state più un'elencazione di buoni propositi delle vere e proprie linee programmatiche, ha inserito tante cose, forse troppe come ho avuto modo di precisare nel mio intervento. Personalmente credo che le linee programmatiche sarebbero state qualcosa di diverso, avrebbero richiesto dei punti cardine attraverso i quali portare a compimento il risultato di lasciare la firma, l'impronta di un'amministrazione, sia prima, quindi nel momento della dichiarazione, sia ex post per aver seguito queste linee. Mi è sembrata un'elencazione di punti, alcuni condivisibili, altri meno, ma spesso sterile, quindi quello che ho notato sì, tante belle cose sulle quali si discuterà senz'altro nella legislatura, però il guizzo è mancato, cioè quello che ci si poteva aspettare da un'amministrazione che intende effettivamente rinnovare, onestamente non lo sono riuscito a scorgere. E adesso torniamo alla cronaca perché c'è giallo attorno alla morte di un uomo ad acqua viva di Sernia. Nonostante ufficialmente si parli di un decesso causato da un malore, in tantissime persone sospettano che si tratti in realtà di un omicidio. Certo è che ieri ai funerali c'è stato un colpo di scena perché la cassa da morte è stata riaperta per effettuare ulteriori verifiche. Ce ne parla Sergio Di Vincenzo. Queste macchie di sangue sulla parete hanno sollevato molti dubbi in paese, a maggior ragione perché chi è entrato in casa giura che ce n'erano molti di più e non solo in questa stanza. La morte di Luigi Petrocelli, 51 anni di acqua viva di Sernia, sta diventando un vero e proprio caso. Non aveva parenti, solo una compagna, con la quale divideva la sua abitazione di via salita municipio. Almeno ufficialmente, nessuno vuole sbilanciarsi su questa morte, ma a microfoni spenti i suoi amici, gli unici che hanno provveduto a far affiggere un manifesto in paese, non escludono affatto l'ipotesi che Luigi Petrocelli possa essere stato ucciso o perlomeno che possa aver battuto la testa in seguito a un litigio. Nessun dubbio, invece, per i sanitari intervenuti nell'abitazione del 51enne. L'uomo è stato stroncato da un infarto. Ciononostante, quelle voci che circolano con insistenza in paese e sui social network hanno spinto anche la procura a volerci vedere chiaro in questa storia. E in effetti, ieri ai funerali c'è stato un epilogo che ha del clamoroso. La bara era stata già messa nell'oculo quando al cimitero di acqua viva è arrivato un medico necroforo insieme ai carabinieri. La cassa è stata portata nella camera mortuaria e riaperta, ma la conclusione è stata la stessa. Luigi Petrocelli è morto per cause naturali. Il caso è dunque chiuso, salvo altre clamorose sorprese. Aggredisce e minaccia di morte la figlia. Un settantenne di Bagnoli del Trigno è stato denunciato dai carabinieri per lesioni personali e minaccia aggravata. I motivi del gesto, consumato nei confronti della figlia 25enne, vengono definiti futili. I carabinieri in via precauzionale hanno sequestrato quattro fucili, una pistola calibro 7,65, circa 800 munizioni di vario calibro, 700 grammi di polvere da sparo e due pugnali. Armi e munizioni erano regolarmente detenuti. L'avvertenza ITR è stato fissato per domani in incontro tra gli amministratori della OTI e il giudice Vassallo. Si discuterà delle nuove garanzie richieste dopo l'arresto di Rosati. Intanto sempre per domani si deciderà sulla mobilità di 540 dipendenti. Il servizio di Enzo Di Gaetano. Tra oggi e domani si deciderà il destino di OTI e dei 540 lavoratori TR attualmente in cassa integrazione, ma desiderosi di andare subito in mobilità per evitare le riduzioni previste dalla legge Fornero affardata dal gennaio 2015. Ma andiamo con ordine partendo da Milano e dall'inchiesta della Procura e della Guardia di Finanza del Capologo Lombardo, che ha fatto finire in galera Antonio Rosati. L'inchiesta della magistratura milanese avrà sicuramente pesanti riflessi anche in Molise, in quanto ha praticamente bloccato tutte le disponibilità economiche di Rosati, tra cui anche i fondi che dovevano servirgli per dare il via alla produzione a Pettoranello. In giornata si dovrebbe sapere come è finita l'assemblea dei soci OTI e chi sarà il nuovo amministratore delegato e soprattutto quali saranno le sue intenzioni. In Molise nel frattempo tutto l'interesse dei lavoratori è rivolto alla mobilità, da 4 o 2 anni di sussidio garantito, ma se si finisce nel 2015 si perde un anno. Per questo il tentativo posto in essere dai sindacati è quello di chiudere l'accordo sulla mobilità entro il 2014, cioè subito e domani a tal proposito è prevista l'assemblea del personale e l'incontro con la commissaria Caruso. Allora Bicantonelli, tutto rinviato a domani per la delicata questione della mobilità, bisogna fare presto perché se si fa presto prendono tutti un anno in più. Tutti no, è una cosa piuttosto che andiamo per step. Diciamo che noi ieri preliminarmente l'accordo l'abbiamo già formalmente siglato, non siglato ma già abbiamo concordato la linea da seguire per l'apertura delle procedure di mobilità. Ovviamente però noi come sindacato abbiamo richiesto alla dottoressa Caruso che vogliamo prima consultare e spiegare nel dettaglio, vista la complicazione che è sopraggiunta con la faccenda rosata ai lavoratori, che cosa significa aprire le procedure di mobilità entro l'anno o successivo all'anno prossimo. Quindi domani appena avremo spiegato, quindi avremo interloquito con tutte le maestranze, andremo successivamente già alle 18, eventualmente avendo il mandato dell'Assemblea, a siglare quello che c'è da siglare per la definitiva apertura della procedure di mobilità. Ed è una corsa contro il tempo perché se si fa entro il 2014 c'è un anno in più per tutti. Sì, stante la legge attuale è così, non è proprio per tutti, bisogna fare appunto una serie di verifiche su quella che è l'età di ogni singolo lavoratore. Noi preliminarmente come Will abbiamo già provveduto con i nostri iscritti a fare delle verifiche, quindi sappiamo a chi ha interesse a fare questa cosa e chi viceversa può tranquillamente aspettare perché il quadro generale non gli cambierebbe niente. La quarta commissione consigliare alla Regione Molise prosegue il confronto sulla legge di sostegno all'editoria locale. Resta però il giallo che è quello sull'accumulabilità dei contributi con altri benefici nazionali. Il servizio. La quarta commissione di Palazzo Moffa, presieduta da Domenico Ioffredi, si è riunita per continuare le audizioni sulla proposta di legge per il sostegno al settore dell'editoria locale già approvata dall'Aggiunta regionale. La scorsa settimana erano stati ascoltati i rappresentanti dell'Ordine dei giornalisti, Antonio Lupo e Domenico Bertoni. Questa volta è stato il presidente di Assostampa Molise, Giuseppe Di Pietro, a proporre i suoi emendamenti al testo partorito, con un anno di ritardo rispetto agli impegni elettorali dall'Aggiunta Frattura. Noi ci lavoriamo da sette anni a questa proposta di legge. Speriamo che siano arrivati veramente, siano maturati i tempi perché sia varata al più presto. Noi pensiamo anche entro l'anno perché non ci sono motivi per ritardare oltremodo. Quali obiettivi vuole raggiungere la sostamba con questa legge? L'obiettivo è quello di aiutare un settore vitale e determinante per la democrazia che è in crisi in questo momento e di aiutare le aziende a superare questo momento difficile e quindi di premiare quelle che sono in regola con la contrattualizzazione. Hanno una filiera produttiva regolare, quindi stabilizzata da contratti di lavoro e che hanno un prodotto finale ovviamente anche di qualità. Per effetto di una palese contraddizione contenuta nella proposta di legge resta il giallo sulla cumulabilità dei contributi con tutti gli altri benefici nazionali o regionali. C'è chi punta ad escludere qualche emittente. Le leggi non si fanno né per qualcuno né contro qualcuno. si fanno perché devono essere eque, devono essere giuste, devono aiutare chi investe, chi appunto ha delle spese perché l'assetto costituzionale è quello, bisogna remunerare i dipendenti e quindi questi sono gli obiettivi che credo debbano ispirare ogni legislatore. Al termine dei lavori la Commissione ha acquisito le proposte della sostampa e si è aggiornata alla prossima settimana per assumere una decisione definitiva e per licenziare la legge che dovrà poi essere approvata dal Consiglio regionale. Il parlamentare del PD Danilo Leva ha chiesto l'intervento del Ministero del Lavoro sul problema dei 95 lavoratori della formazione professionale in cassa integrazione in deroga fino al 31 dicembre. È necessario stabilire un iter certo per dare una risposta ai lavoratori che da gennaio non avranno ammortizzatori sociali, dice Leva. Bisogna reperire le risorse aggiuntive che garantiscano l'attivazione di quei percorsi che la Regione ha già individuato insieme alle parti sociali. Il deputato del PD che si è rivolto direttamente al sottosegretario Bellanova è in costante contatto con il Ministero per risolvere in tempi brevi la vicenda. Ed è invece scattata oggi la cassa integrazione per gli 80 dipendenti fissi dello zuccherificio del Molise, decise 13 settimane di stop ripartite tra i lavoratori per far fronte alla crisi di mercato. Critica la Flai CGL che dice siamo delusi dalla politica. Vediamo. Accordo tra azienda e sindacati per la cassa integrazione al nuovo zuccherificio del Molise. 13 settimane di stop ripartite dagli 80 dipendenti fissi della fabbrica dove si aspetta ancora la nomina dell'amministratore unico. L'intesa è stata siglata dai rappresentanti sindacali aziendali di CGL, Cisle Will e dal dimissionario Francesco Fusco che sta traghettando la fabbrica in attesa delle decisioni della Regione. Alla base del ricorso alla cassa ordinaria c'è la duplice necessità di far fronte alla grave crisi di mercato che ha colpito l'intero settore saccarifero e di salvaguardare i livelli occupazionali e le condizioni tecniche, organizzative e produttive. I turni saranno distribuiti a rotazioni allo scopo di gestire il disagio della sospensione fra tutti i lavoratori per i quali l'azienda si è impegnata ad anticipare le somme. Sarà inoltre attivata da parte aziendale la procedura di mobilità su base volontaria. Siamo consapevoli di fare sacrifici per aiutare l'azienda, ha affermato Antonio Dilisio, RSU della Flai CGL, ma ha aggiunto siamo delusi dai comportamenti di una politica non sensibile ai problemi sociali. Gli avventizi, ha ricordato Dilisio, sono a casa senza reddito e speranza. Ora i dipendenti stabili, che avevano già pagato due anni fa con la perdita di 4.000 euro, poi hanno perso i soldi i bieticoltori. La giosta, ha concluso il sindacalista della Flai CGL, continua a girare. Intanto il presidente degli industriali del Molise, Mauro Natale, ha preso posizione sulla questione delle riforme istituzionali e dell'eventuale soppressione delle regioni più piccole. L'idea più opportuna, dice Natale, resta quella di superare le regioni. Ha senso preservare l'autonomia regionale? Ha aggiunto se nella realtà le regioni offrono a tutti i cittadini e alle imprese le stesse opportunità di crescita e di sviluppo da nord a sud. Ma oggi ciò non sta avvenendo. Per il leader degli industriali, il contributo che le regioni possono dare alla soluzione della crisi è ridurre drasticamente i costi della politica e della pubblica amministrazione. E adesso parliamo delle celebrazioni per il 4 novembre, la giornata dell'Unità Nazionale delle Forze Armate, celebrazioni nei principali centri della regione. Cominciamo vedendo la cerimonia di Campobasso, dove per noi c'era Tonino Danese. Con la fine della Prima Guerra Mondiale si concludeva il processo di unificazione dell'Italia. Oggi è anche a Campobasso la celebrazione di quel traguardo, la celebrazione delle Forze Armate, cento anni fa lo scoppio della Grande Guerra. Nel 1915 l'ingresso nel conflitto del nostro paese, un enorme sacrificio di vite umane in nome appunto dell'unità. Quell'unità, specie oggi in un momento di crisi, di scontro anche sociale, a cui si sono richiamate le autorità nei loro discorsi in piazza, dopo la deposizione della corona di fiori al monumento ai caduti. Il messaggio del Presidente della Repubblica, letto dal prefetto di Campobasso di Menna, quello del Ministro della Difesa affidato alla voce del comandante regionale dell'esercito tricarico, il quale ha ricordato anche il sacrificio di soldati molisani alla patria. Molto ha dato il Molise all'Unità d'Italia e molto continua a dare come sacrificio dei suoi uomini migliori. Ricordiamo solamente gli ultimi, e sono due, il tenente Giulio Ruzzi caduto a Balad in Somalia il 6 febbraio 1994 e il caporal maggiore scelto Alessandro Di Lisio caduto a Farah in Afghanistan il 14 luglio del 2009. In guerra come in pace l'esercito portatore di valori condivisi lealtà, solidarietà, unità sotto la bandiera della pace e del progresso da costruire insieme appunto alla luce di questi valori, valori ricordati nei loro discorsi dal governatore Frattura, dal sindaco di Campobasso Battista, dal rappresentante delle associazioni combattentistiche d'arma, dal presidente della provincia De Matteis che ha accennato anche ai tagli della spending review che in alcuni casi specifici minano il principio di rappresentanza democratica. Presenti oltre al delle scolaresche anche alcuni reeduci della seconda guerra mondiale come Pasqualino Mastrantuoni, marinaio al petto, la croce di guerra e la medaglia al valore militare che si rivolge proprio ai giovani. È bruttissima, non bisognerebbe mai parlare di guerra, mai, perché per chi l'ha vissuta è brutta, è brutta, è brutta, sotto tutti i punti di vista, sia morale, religioso, politico eccetera, la guerra è una distruzione. Bisognerebbe inculcare nei giovani e in particolare loro alle scuole questo amor di patria che oggi si sente poco. Noi abbiamo cercato di dare tutto per il bene. Queste medaglie cosa significano per lei? Specialmente la medaglia di bronzo significa molto perché allora sentivamo veramente l'amor di patria. Questi ricordi ci commuovono ancora. E dicevamo celebrazioni non solo a Campobasso, vediamo com'è stata la cerimonia del 4 novembre a Isernia. Bandiere, soldati, associazioni, labari e reduci. Anche il 4 novembre del 2014 è stato contrassegnato dal copione che si ripete da quasi 100 anni. Ricordare e rendere onore ai caduti della Grande Guerra, la 15-18 augurandosi che non accada mai più niente del genere. Ma come ha intelligentemente sottolineato la liceale incaricata di leggere il suo bel tema sulla manifestazione, la Grande Guerra fu il laboratorio sperimentale in cui si prepararono le più grandi nefandezze dell'ultimo secolo. Nell'ordine l'umiliazione della Germania, che diede poi vita al secondo conflitto mondiale per revanscismo e spirito di vendetta. L'avvio di 70 anni di dittatura del proletariato su mezza Europa e la cancellazione dell'impero turco-ottomano, che avrebbe lentamente fatto scivolare il Medio Oriente verso guerre di religione tra i vari culti islamici e il terrorismo. E proprio al terrorismo ha dedicato il suo messaggio il capo dello Stato, come ha sottolineato anche il prefetto Piritore. Sicuramente il Presidente della Repubblica ha accolto in questo momento i sentimenti del popolo italiano. Naturalmente quello che noi vediamo attraverso i media, di quello che accade nel Medio Oriente, ci preoccupa fortemente. E credo che il Presidente si sia reso interprete di questo sentimento che è naturale e assolutamente giustificabile dei cittadini italiani. Quindi ricordare la Grande Guerra, ma prepararsi anche a qualcosa di diverso. Insomma, non siamo fino a questo punto, però la Grande Guerra, sono 100 anni che si è verificata, ha lasciato come ha letto il messaggio la ragazza, tra l'altro molto brava, che ha letto il tema sulla giornata della festa delle forze armate, è la matrice di tutte le guerre e di tutte le conseguenze che in questi due secoli si sono avverate. Cambiamo adesso argomento. Diritto internazionale, internati e prigionieri di guerra. Il titolo del convegno è organizzato dal Comitato Provinciale della Croce Rossa italiana per i 150 anni della nascita dell'organizzazione. L'evento si è svolto nella Sala della Costituzione della provincia di Campobasso, ospite dell'incontro Serafino Liberati, generale di Corpo d'Armata dei Carabinieri in ausiliaria e consigliere militare del Presidente nazionale della Croce Rossa per le questioni che riguardano il corpo militare. C'è stata anche la testimonianza di Michele Montagano, ex internato in un campo di concentramento e presidente vicario dell'Associazione nazionale Reduci dalla Prigionia. Al termine del convegno sono state conferite anche delle onoreficenze al merito della Croce Rossa italiana. Adesso parliamo di musica, dal jazz al funk, passando per il blues e per finire poi con le percussioni e ritmi insoliti. Tutto questo è stato proposto ieri sera al pubblico dell'ex GIL di Campobasso, il concerto organizzato dal Conservatorio Perosi di Campobasso è diretto dal maestro Lelio Di Tullio. Sul palco la band dei Sassi Funk, un'ampia gamma di generi musicali sapientemente realizzati da questa orchestra di 18 elementi. Il gruppo che ieri sera ha fatto da padrone alla manifestazione vanta già numerose esibizioni di prestigio. dopo il Conal Jazz Contest e l'Umbria Jazz di quest'anno, quest'estate, la band si era esibita infatti nel concerto ai Giardini Carducci di Perugia durante la rassegna jazz dell'Umbria. E con queste immagini che si riferiscono al concerto di ieri sera si chiude il nostro telegiornale, l'ultima notizia. Io vi ringrazio per averci seguito, vi lascio alle previsioni del tempo e poi alle notizie sportive. Vi auguro un buon pomeriggio, a più tardi. Grazie a tutti.